Torna in scena al teatro Leo Amici, Lago di Monte Colombo, a Rimini, il musical Varietà Made in Italy. Si tratta di una produzione rappresentata dai maggiori teatri italiani con Gino Bramieri con una tournée durata due anni nel 1992-1993. Scritto e diretto da Carlo Tedeschi ripropone un viaggio nello spettacolo leggero. Scene tratte dalle più belle comedie musicali italiane si affiancano alla migliore tradizione melodica della penisola proponendo un viaggio con brani senza tempo e che hanno caratterizzato lo scenario teatral italiano. Nello stesso tempo il confronto è inevitabile con il musical di Broadway e lo show style americano. Lo spettacolo ebbe un eccezionale successo con il compianto Bramieri e torna ora sulle scene con balletti, scenette e canzoni riproposti da giovani artisti che rallegrano il pubblico per oltre due ore di puro divertimento. Lo spettacolo rientra nella rassegna Giovani in Scena promossa dalla Fondazione dell'Amici in collaborazione con un'associazione d'aria e danza e musical con il patrocinio del Comune di Monte Colombo e l'Unione della Valconca. Poiché i miei spettacoli, per quanto possano essere anche allegri e spensierati, parlano sempre e comunque al cuore dei giovani avvicinandoli alla bellezza dell'arte e del creato di Dio, credo che questa presenza sulla rete e su un canale come iTunes possa rendere per loro più fruibili le vicende e le emozioni che mette in scena, in particolare in un ambito che i giovani frequentano usualmente, ha affermato il regista Carlo Tedeschi. In quest'ottica attivo ha anche il canale YouTube Italian Musical Channel che raccoglie trailers, brani, backstage e interviste dei musical nati al Teatro Le Amici del Lago di Monte Colomborini.